E la presenza contemporanea di vitamina C aumenta la biodisponibilità del ferro non... Non eme! Non eme! E ricordatevi di mangiare tanta verdura! No, no, per favore, non possiamo costruire una cosa del genere! No, no, no! Qual è il problema? Questa scena è assurda e non riesco nemmeno a pronunciare la mia battuta! Non ha senso dire cose così complicate, perché alimentarsi correttamente, in fondo, è una cosa semplice! E allora cosa vorreste dire? Per esempio, proteine, contenute soprattutto in carne e legumi, sono fondamentali per una corretta crescita del corpo e un efficiente metabolismo. Beh, il metabolismo è aiutato anche dalle vitamine, che abbondano in frutta e verdura più che nell'erba che stavi per mangiare. Ma la sceneggiatura! Ragazzi, ci abbiamo messo così tanto a scriverla! Zitto, faccio andare avanti! Già che siamo alla frutta, potremmo dire che ai vari colori corrispondono altri tanti benefici! Non basterebbe seguire la sceneggiatura! Ma nella sceneggiatura non parliamo neanche delle fibre! Ma certo, perché le fibre fanno soltanto andare di corpo! Ma dai, al massimo possiamo dire che ti fanno sentire più salse! Poi sono anche quelle facili a trovare nelle verdure! Quindi, coraggio! Mangiati un ortaggio! Io ci rinuncio! Dai ragazzi, sbaracchiamo! Stop! Stop! Ciao! 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 Grazie a tutti.